Riuscirò a provare a tutti che doppia D è un campione. Fai attenzione, Andy! Ecco fatto! È tutto pronto? Coraggio, esci di lì! Non voglio fare la lotta libera, per favore! La lotta libera è l'ideale per dimostrare che non sei un debole! D'accordo, se ci stai comodo puoi rimanere lì tutta la vita! Io lo farei, ma non è poi così comodo! In poco tempo sarai il campione del mondo! Non voglio combattere, Andy! Ma di che cosa stai parlando? La lotta libera non è combattimento, è solo strategia e tattica! Come gli scacchi? Esatto! E adesso andiamo a cercare un valido avversario! Lasciani un po' per me, tavoletto! D'accordo, d'accordo! Devi essere proprio affamata, te ne darò ancora! Apri la bocca! Ma cosa ti è successo? Mi sembri un po' ingrassata! E adesso non mangerai più dolci! E adesso andiamo a cercare un po' ingrassare!